Amici Niter, amiche Niter, sono da Vulcrossing a Torino, finalmente! Non vedevo l'ora di arrivare, si stanno zittendo ma in realtà è come niente questo disco. Mi hanno già spremuto come un limone, sono già stanca e provata da questa esperienza, però sono contentissima, loro sono tantissime. Ieri abbiamo fatto un bellissimo trunk show e se riesco a carpire un qualche filmato da qualche parte ve lo metto subito dopo questa clip. E ho anche questa cosa bellissima che è un contagiri bellissimo che mi ha regalato Federica, sono contenta. Adesso le lasciamo lavorare ancora un poco, sono alle prese con gli inserti a righe di Ciclis e noi ci vediamo tra un po'. E ho detto, guarda che bello, aspetta che provo ad esprimere anche quello che mi piace con la maglia. E in realtà è stato da quel momento un po' come dire, come una balanga che veramente inizia da un sassolino ma poi diventa sempre più grande man mano che scende sul pendio della montagna, dal pendio della montagna. E man mano che più disegnavo, più vedevo che le mie cose venivano apprezzate e più in quel momento c'era il... insomma, nascevano i primi workshop di maglieria in giro per l'Italia. Sto parlando di sei anni fa, circa così. E io ho cominciato proprio in quel periodo. E devo dire, ho cominciato in una città piccola piccola che è vicina a Trieste, si chiama Gorizia e devo dire la verità, sono stati i primi workshop che ho fatto e da lì è stato un po' essere la persona giusta, il momento giusto, con le competenze giuste, la voglia di mettersi in gioco e in realtà da lì pian pianino ho cominciato a fare workshop un po', non dico dappertutto, ma insomma in tantissime, in tante tante città. E man mano che più facevo e più mi piaceva fare, no? La giornata, insomma, chi lavora a maglia lo sa, è sempre troppo breve, no? Non hai mai abbastanza tempo per mettere le tue idee, non hai mai abbastanza tempo da finire quello che vuoi fare, perché insomma la maglia poi ti insegna un po' la pazienza, no? E in realtà per me è stato come un rinascere, è stata una riconquista di me stessa, è stata una seconda occasione e io mi ritengo veramente molto fortunata perché non capita a tutti e ho colto questa occasione, sono eternamente grata a quello che io ho avuto, cioè questa seconda occasione nella vita, dopo la pittura, io non mi sarei mai immaginata di andare a finire così, no? E invece sono molto molto contenta perché attraverso la maglia riesco ad esprimere quello che sento dentro, riesco ad esprimere la mia creatività che per me è una cosa veramente molto 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 importante. E da lì, diciamo, è un po' nato tutto, è nato il mio amore per i filati preziosi, per le fibre preggiate e quindi ho cominciato a lavorare anche con dei filati che non si trovavano in giro e man mano che li lavoravo sempre più scoprivo questo mondo dei filati che mi affascinava moltissimo. Una volta effettivamente in Italia, fino a veramente pochi anni fa, si trovava l'amerino. In Moers eravamo fortunati ma veramente si trovava poco poco altro. Invece questo grande mondo del filato che ha cominciato ad essere sempre più presente sul mercato è stato una porta che per me ha voluto dire anche una grande fonte di ispirazione. E quindi io vi ho portato anche un po' di campioni per farvi vedere un pochettino quello che ho fatto negli anni. Io ho iniziato a lavorare, insomma in realtà poi ho anche finito di lavorare, con filati molto sottili, no? E questa qua è una cappetta che si chiama la principessa stregata e già dall'inizio si vede la mia passione per i pizzi e per i filati sottili e i merletti e i filati pregiati perché questa è fatta con i cashmere. Allora una volta io non avevo grande disponibilità di avere tanti filati quindi questo qua viene da un maglione che ho dispato io in realtà e ho recuperato, no? Poi mi piace moltissimo anche la seta e allora ho cominciato a lavorare anche con questo materiale che magari fino a quella volta non avevo tanto considerato, no? Questo è uno scialle, si chiama carezza e come si può vedere il pizzo mi piace sì ma fino ad un certo punto diciamo che il mio ideale di pizzo doveva essere innanzitutto reversibile, no? quello davanti e dietro con le parti uguali soprattutto nel pizzo degli scialli è molto geometrico, no? poi ovviamente il... in questo momento In questo caso con il rischio e la scu vai riposare e la scuola per la scuola doveva ormai la scuola quattro con la scuola e la scuola la scuola ecco la scuola era nel era cia la scuola per la sottotilità si è la scuola di è Grazie per la visione 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 Grazie per la visione